Giuseppe Garibaldi ha manifestato l'intenzione di lasciare il grande fratello, secondo quanto riportato da Amedeo Venza sui social media. Venza ha descritto il momento in cui Garibaldi avrebbe confessato di voler andarsene, preoccupato di ricevere un richiamo da Alfonso nella puntata successiva per il suo gesto di aver colpito il muro durante la vigilia di Natale. Nonostante il resoconto di Venza sia stato basato sul condizionale, non si può confermare se la volontà di Garibaldi di abbandonare il programma sia autentica. Tuttavia, oltre al suo pugno contro il muro, Garibaldi ha suscitato critiche per alcuni commenti fatti sugli omosessuali che affermava di aver accettato. Il momento in cui ha colpito il muro non è stato registrato poiché è avvenuto durante la notte, come riportato da Beatrice Luzia Fiordaliso. Luzia ha espresso il suo disappunto, affermando che non è responsabile se qualcuno si fa male a causa delle proprie azioni. Ha citato l'episodio del pugno al muro come un comportamento provocato da altri e ha menzionato altri comportamenti controversi di Garibaldi durante la sua permanenza nella casa.